Buongiorno a tutti. In Giovanni 8 Gesù fa una dichiarazione, Gesù fa tante dichiarazioni, sono tutti veri sì, ma ogni tanto lui inizia una dichiarazione con in verità, in verità. E questo non è perché gli altri non sono in verità, tutto quello che Gesù dice è verace, ma per mettere in fasi che questo è fondamentale, questo è essenziale. Quindi Giovanni 8,51 Gesù parlando con dei giudei che prima avevano creduto in lui intellettualmente, ma visto che ha parlato dei loro peccati a questo punto, lo odiavano. E Gesù dichiara loro, in verità, in verità vi dico che se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte in eterno. Varie cose che voglio riflettere. Chi osserva con costanza la parola di Cristo? Perché se non osserva con costanza, osservo? Pensate a questo. Se non osservo con costanza, osservo veramente la parola? Cioè, se per una settimana osservo, per una settimana non osservo. Si può dire che osservo? Un marito che è fedele alla moglie due settimane al mese e due settimane non è fedele. Tre settimane sì, uno no. Si può dire che è un marito fedele? No, osservare è un cammino. Allora, nel osservare la Bibbia ci spiega, cadiamo, ma è una caduta, non è un cammino. E quando cadiamo, confessiamo il peccato. Quindi, osservare è un cammino. Chi osserva la parola di Cristo? Ok, certamente, solo chi è salvato, potremmo dire. Ma più di quello, chi osserva la parola di Cristo? Chi teme l'Eterno. Chi teme l'Eterno. E una parte di temere l'Eterno è perché tengo in mente che cosa? Qualcosa a cui si riferisce questo versetto. Tengo in mente la mia eternità, tutti i giorni. Non sono preso con oggi, ma oggi passerà. La cosa importante è che mi troverò davanti al mio Signore. Questo è lo stimolo che mi fa osservare veramente la parola di Cristo. Io ho fede, ho fede, ci sarà un giudizio, c'è l'eternità. Non è solo un fatto intellettuale che so, è la realtà che vivo. Io devo rendere conto a Dio. Io so questo, ci credo e determina come cammino. Perciò osservo la sua parola. Perché ho vera fede. Chi osserva la mia parola non vedrà mai la morte in Eterno. Certamente sta parlando della morte spirituale. E col dire che io credo la seconda parte per vivere la prima. Pensate. Chi osserva, chi crede, quello che Gesù dichiara lì. Perché se non credo quello, nel senso non intellettuale, ma nel senso di cuore, se non credo veramente, non osserverò. ma se credo veramente, allora, allora, osserverò. Non per ottenere la salvezza, ma perché ho fede. Perché ho fede. ma viviamo in un mondo dove abbiamo bisogno di ricordi. Perché è facile pensare ad oggi. È facile pensare a tutto quello che ci circonda e dimenticare di quello che è reale, che dura eternamente. e perciò Gesù inizia proprio con in verità, in verità, che dovrebbe sempre farci cosa sta per dire, cosa sta per dire. Signore, la mia fede è debole. Quanto spesso tolgo gli occhi da Te, questo è grave. Perdonami, perdonami, oh Signore, che offesa. perdona il mio peccato. Come si arriva ad osservare non provando ah, devo cercare, devo cercare, no, confessando il peccato. Cosa è mancanza di costanza? Mancanza di costanza nel osservare la parola è osservare la parola o è non osservare la parola. è sapere ma non vivere. E dobbiamo vedere quello per quello che è peccato. Perché c'è perdono. C'è perdono. Però per avere perdono dobbiamo migliorare, dobbiamo cercare di migliorare, cercare, no, per avere perdono così dobbiamo fare chi confesse i suoi peccati. Signore, questo è peccato. ma grazie che c'è un salvatore, grazie che c'è un sacerdote accanto al trono, un mediatore, un avvocato in cui c'è perdono. vogliamo presentarci a Dio oggi. Io per primo immagino tutti abbiamo bisogno di quel salvatore perché non abbiamo osservato la sua parola con fedeltà nell'ultima settimana. E vogliamo presentarci devo fare meglio? no. Vogliamo presentarci ho peccato contro di te. Ho peccato contro di te. Per grazie mi hai dato le tue verità. Non mi mancano le verità. Non ho visto importanti come sono. Mi presento a te con il mio peccato chiedendo perdono. In Gesù Cristo c'è perdono. Veniamo davanti a Dio umilmente ma con fede in un grande salvatore per lodarlo oggi. Padre nel nostro orgoglio spesso non vogliamo vedere il peccato. Spesso vogliamo sì è vero sì non ho fatto come dovevo sì avrei dovuto e vogliamo cercare di migliorare anziché umilmente presentarci a te riconoscendo il peccato ed è proprio quello è peccato contro di te. Ma se non vediamo il peccato non vediamo Cristo. In Cristo c'è il perdono solo in Cristo. E quindi voglio ringraziarti per un grande Signore salvatore e salvatore qual è Gesù Cristo. E vogliamo vedere io voglio vedere i miei peccati quando non osservo la tua parola Padre nel omettere quello che mi ha comandato vietato vietato a fare voglio vedere e confessare i miei peccati perché in Gesù Cristo c'è il perdono. Grazie per il privilegio che ci dai di incontrarci qua oggi per lodarti per esaltarti per ringraziarti per la grazia per le benedizioni che abbiamo tutti in Gesù Cristo. Accoglie la nostra adorazione e il nostro ringraziamento mostraci il peccato e mostraci Cristo nel nome di Gesù Cristo ci presentiamo a te per questo culto. Amen. Amen. Grazie